Ciao a tutti e benvenuti su MyFootballGersey. Io sono Stefano e oggi vi presento la seconda maglia del Barcellona, quella da trasferta, per la stagione 21-22 nella versione replica o fan, quella cioè dedicata ai tifosi. La maglia è tintunita di color lilla, sui fianchi ha i due colori blu e granata, appunto tipici della squadra blaugrana. La particolarità è che lo stema del club e il logo Nike sono lucidi, quindi con il riflettere della luce fanno un effetto veramente molto molto bello. Il main sponsor è termosaldato, così come logo Nike e stema del club. Questo lo si vede perché all'interno non vi sono cuciture. Il collo a V e la maglia realizzata con la tecnologia Nike dry fit. Sui fianchi vi sono queste bande blu e granata appunto che ricordano i colori del Barcellona, della squadra. Sul retro la maglia è tintunita, in alto vi è i colori, vi sono i colori della Spagna e in basso c'è lo sponsor Unicef storico della squadra. Molto bella, vero? Nella mia classifica questa prende quattro stelle. Ho aspettato un po' prima di ordinarla perché non ero convinto, ma devo dire che sono stato felicemente sorpreso, peraltro di un'ottima manifattura e vi ricordo che ritrovate tutti i riferimenti nella descrizione del video. Ora, prima di lasciarvi la parte in cui vedrete la vestibilità, se il video vi è piaciuto vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto un metro 75 e peso 70 kg. Quella che vedete è la versione replica nella taglia media, la versione dei tifosi.